E torniamo a parlare dell'avvertenza della Frama Action di Novi di Modena. Dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento ci furono delle proteste. Ora la multinazionale austriaca ha intrapreso un'azione disciplinare nei confronti degli operai e del sindacato che, dicono, hanno ostacolato la produzione. Giorgio Maria Leone. Nove operai della Frama Action di Novi di Modena e un sindacalista della FIOM CGL sono stati denunciati per aver ostacolato l'attività produttiva durante gli scioperi delle scorse settimane, che erano stati proclamati dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento da parte della multinazionale austriaca Ella. Alle denunce, ha detto il segretario provinciale della FIOM Cesare Pizzolla, il sindacato risponderà con una manifestazione. Nei prossimi giorni, davanti alla prefettura, per chiedere la solidarietà dei modenesi che hanno a cuore i diritti del lavoro. La FIOM è pronta alla mobilitazione, con una grande manifestazione sotto la prefettura di Modena per affermare che non è possibile che in questo paese le aziende possano licenziare liberamente, mentre i lavoratori che si organizzano per difendersi da una scelta unilaterale dell'azienda di licenziarli vengano colpiti da un provvedimento di denuncia.